Buongiorno, siamo qui al liceo Newton di Roma, abbiamo la preside Cristina Costarelli che è neo, anche responsabile, presidente dell'ANP del Lazio. Oggi inizia la scuola. Preside, come arrivate a questo appuntamento? Arriviamo carichi, carichi di aspettative, carichi anche di preoccupazioni, questo non possiamo negarlo, però insomma cerchiamo di vedere positivo, perché già il fatto di avere i ragazzi in presenza è un punto a favore di quest'anno scolastico. Rispetto al 2020 cosa cambia, cosa c'è di nuovo? Diciamo che rispetto al 2020, a parte che ormai conosciamo il Covid, quindi questa è una conoscenza che abbiamo maturato. La novità principale è nel fatto del distanziamento. L'anno scorso abbiamo dovuto costruire spazi, layout, sistemazioni garantendo il metodo di distanza. Questa come impatto è la differenza più importante, per cui quest'anno i ragazzi tornano anche senza distanziamento. E poi la novità del Green Pass che ci ritroviamo a iniziare a gestire in questi giorni. Del Green Pass parleremo tra poco. Voi come ANP avete abbandonato il tavolo sulla sicurezza over sei anni, il motivo è perché non siete, rimanete a essere contrari rispetto alla diffusione gratuita dei tamponi anche per i lavoratori non fragili. Poi c'è stato un chiarimento del Ministero, il Ministero ha detto no solo per i fragili, questo ha creato un po' di turbolenze. Ecco, si può dire oggi che questi tamponi in qualche modo, diciamo questa soluzione per voi è ottimale oppure volevate qualcosa di più rispetto sempre al tavolo sulla sicurezza? Diciamo che rispetto al tavolo sulla sicurezza, al protocollo che ANP non ha firmato, quello che ancora si continua a chiedere è che quel protocollo venga cambiato. Perché di fatto il protocollo è rimasto così ed è stata aggiunta una nota di trasmissione, che ovviamente è una fonte di valore giuridico diverso. Quindi il motivo per cui ANP ancora non può sottoscrivere quell'accordo è che finché la modifica non è nel testo del protocollo le motivazioni di ANP restano invariate. Quindi a quel punto però l'ANP sarà disponibile a sottoscriverlo? Ma certo, ma sicuramente è stato già richiesto al Ministro in questi termini. Certo, ritorniamo, si parlava di distanziamento, mi sembra che nella vostra scuola, nel vostro istituto si tornerà a stare in classe gli alunni con i banchi biposto? Esatto, noi abbiamo riutilizzato i biposto e anche senza biposto abbiamo accostato i monoposto a formare dei biposto, perché altrimenti non avremmo proprio potuto far rientrare nelle aule i nostri studenti. Voi avete aule di quanti metri quadrati mediamente? Ma guardi, le aule di questo istituto sono estremamente varie, abbiamo aule ampie a 30-35 metri quadrati, ne abbiamo più piccole a 20, quindi abbiamo dovuto fare tutta una costruzione in modo tale di mettere le classi numerose che stanno nelle più ampie e le piccole nelle inferiori. Con una considerazione paradossale, nel senso che abbiamo alunni, classi a 30, distanziati, perché abbiamo delle aule molto grandi, classi a 17 senza distanziamento perché sono nelle aule più piccole. Quante classi da 30? Da 30 qui ne abbiamo 13, però non sono necessariamente tutte senza distanziamento, perché loro le abbiamo messe, per esempio ce ne abbiamo una in Aula Magna dove stanno estremamente distanziati. Ecco, però ci sono delle situazioni dove il metro di distanza non è rispettato. Come no, ce ne sono tante, ce ne abbiamo almeno su 46 classi, ne abbiamo messo a quei calcoli proprio specifici, non li ho fatti, ma sicuramente più di 22-23 non hanno distanziamento. Questo pone qualche preoccupazione secondo lei? Certamente sì, la preoccupazione ce l'abbiamo in ordine alla diffusione dei contagi, perché è vero che ci è stato detto che con la mascherina possiamo stare tranquilli, tranquilli, le misure sono rispettate, ma noi la paura che è il fatto di stare vicini, quindi anche con una riduzione conseguente di areazione, possa in qualche modo favorire questa diffusione. Però ci devo fidare. Avete cognizione di quanti studenti sono vaccinati? Allora, cognizione ovviamente no. Diciamo che abbiamo una percezione, nel senso che ci siamo confrontati con i genitori del Consiglio d'Istituto, un po' dalle voci che ci arrivano, e ci arriva un riscontro positivo, cioè i ragazzi si stanno vaccinando. Quindi questo chiaramente è un punto che ci tranquillizza. Bene, oggi è anche il debutto del Green Pass, un bagno di fuoco si è detto. Voi come procede questa applicazione telematica? La state sperimentando e quando entrerà a regime? Allora, il Green Pass sappiamo che ha iniziato il controllo dal primo settembre con l'applicazione. Oggi ci sono due novità legate al Green Pass. Uno, l'esordio della piattaforma e due, il controllo anche agli esterni. Infatti adesso abbiamo controllato un rappresentante di libri che doveva entrare. La piattaforma che abbiamo visto apparire ieri sera e che questa mattina era funzionante dalle 7, sicuramente è un sistema agile, immediato, che ci permette appunto in una sola schermata di vedere lo stato del personale. Diciamo che al momento noi qui al Newton oggi, ma anche nei prossimi giorni, continueremo il controllo del Green Pass con l'applicazione perché dobbiamo organizzarci internamente. Nel senso che io devo capire chi posso delegare, abbiamo del nuovo personale amministrativo, quindi ecco, ci serve ancora di capire internamente chi può fare questa verifica e in che tempi. Aggiungo un piccolo aspetto, magari noi la mattina alle 7 vediamo una persona rossa, cioè una persona che non ha Green Pass valido. Se la persona va a fare il tampone alle 10, alle 11 io la trovo valida. Capisce? Quindi bisogna organizzare anche a livello interno un controllo che non è solo la mattina alle 7. Io il controllo lo devo anche ripetere. Potrebbe essere un docente che prende servizio alle 12 o anche un'unità di personale adalt che fa un servizio pomeridiano, quindi non stiamo fuori. Quindi alle 7 non posso dire tizio non entra perché devo rivedere. Preside, si è parlato tantissimo anche di lesione della privacy, perché i dirigenti in qualche modo andrebbero a oltre quella che è la normativa vigente che rispetta i dati personali e sensibili. Secondo lei come stanno le cose? Io su questo faccio un discorso di buonsenso perché ovviamente non è nelle mie competenze dirlo e anzi per fortuna la situazione si è sbloccata. Diciamo che noi scuole trattiamo tanti dati sensibili, dati sensibili come le certificazioni per legge 104, certificazioni per disabilità, quindi noi abbiamo delle procedure per accedere e controllare i dati ultrasensibili. Quindi in questo caso ci sembrava un po' come dire un paradosso che non potessimo avere il semplice dato di scadenza di un green pass perché se avessimo quello chiaramente anche la piattaforma non ci servirebbe più. Però ripeto, quello che faccio è un discorso di buonsenso perché non è la mia materia e chiaramente se il garante ci dice e comunque la normativa prevede che noi non possiamo accedere a questo dato noi ci adeguiamo, però a livello logico sottolineo che noi scuole trattiamo con cautela. C'è un'abitudine a utilizzare questi dati con cautela. Un'ultima domanda, si è molto discusso negli ultimi giorni per l'allargamento del green pass ad altre fasce utenze e persone che gravitano nella scuola, in particolare per quanto riguarda i genitori. La prima domanda è, secondo lei ci saranno problemi per la gestione, per la verifica del possesso del green pass riguardo appunto le famiglie e i genitori? Allora, innanzitutto su questo noi abbiamo passato anche come NPI a ragionare il fine settimana sul termine struttura e siamo addivenuti un po' alla conclusione che come struttura dobbiamo intendere l'edificio interno e non il cortile perché questo pone una grossa differenza. Quindi l'accesso al cortile e agli spazi esterni resta senza controllo, in analogia con quello che accade con i ristoranti. Quindi il controllo sarà solo interno e l'impatto maggiore ci sarà sulle scuole del primo ciclo, nello specifico l'infanzia che è la scuola in cui i genitori per abitudine portano gli studenti, i piccoli alunni dentro. Quindi bisogna in quelle situazioni controllare la situazione. Per le altre ordini di scuola, per le scuole superiori avrà impatto quasi zero, a meno dei colloqui, a meno di appuntamenti ma in quel caso si controlla quando entrano. Quindi voi come anche sindacato siete d'accordo tutto sommato nella verifica, anche se un genitore deve prendere un certificato, consegnare qualcosa per pochissimi minuti perché il contagio sappiamo che si viene a verificare se almeno passano 15-20 minuti di presenza in un ambiente. Ma diciamo che noi dobbiamo avere delle regole univoche, non possiamo dire se uno entra per 5 minuti o se entra per un quarto d'ora di sì perché poi non lo possiamo avere. E diciamo anche, ma per i ristoranti accettiamo il controllo, per le scuole perché no, che sono un servizio comunitario. Allora, concludiamo. Cosa si aspetta per quanto riguarda l'anno scolastico? Io voglio assolutamente pensare positivo. Diciamo che la cosa che mi aspetto e che leggermente mi preoccupa è che è vero che io entro in presenza ma è anche vero che le quarantene, i contagi ci porteranno ad un dentro e fuori. Temo, temo, ma spero di essere smentita abbastanza. La DAD speriamo il meno possibile però insomma... Ce l'abbiamo dietro la porta, almeno per le quarantene. Bene, ringraziamo Cristina Costarelli, dirigente scolastico del Newton di Roma e alla prossima sulla tecnica della scuola.